Sabato 3 marzo, presso il refettorio dell'ex istituto salesiano, il CAI sezione di Quornier ha dato vita alla tradizionale festa della donna. Una serata tra musica, poesia e racconti di esperienze di donne nella loro attività lavorativa. Questa serata è nata parecchi anni fa proprio per un presidente donna che è Ines Mattioda, la quale ha deciso di fare questa festa della donna in vicinanza dell'8 marzo. Di solito lo facciamo un po' prima dell'8 marzo, facciamo questa festa della donna. È una tradizione che è da parecchio tempo e noi la continuiamo volentieri. Durante la serata ci sarà il gruppo di sermoniche Accordeon diretto dalla maestra Cinzia Tarditi, una delle migliori fisarmoniciste d'Italia. Poi ci sarà la Raffaella Miravalle che oltre a essere a guardia parco è anche un atleta, partecipata al Tour de Jean e a tante altre maratone. Ci sarà Maria Grazia Pezzetto che leggerà alcuni brani di poesia e la vigilessa che ci illustrerà, il vice capo dei Vigili Urbani qui di Cornia che ci illustrerà appunto un po' il suo modo di lavorare. A 19 anni nel Medioevo si è già in anticamera da zitelle, mica si è il lifting, gli antibiotici e l'aerobica a noi. A 25 anni zitelle e carampane, o tisiche. Lo vedo io nelle carte cosa succederà, magari muoio a 25 anni e intanto devo star qui ad aspettare il bate. Il club alpino italiano di Cornia praticamente svolge la sua attività su tutti i fronti, abbiamo gite per tutti i gusti, l'escursionismo, cicloturismo, l'alpinismo, abbiamo la palestra, abbiamo il coro. Perciò chiunque vuole venire nella nostra associazione trova praticamente tutto quello che desidera per la montagna e per il proprio benessere e per la propria salute che è importante. Volevo solo aggiungere una cosa, volevo invogliare i ragazzi, io faccio parte dell'alpinismo giovanile, vorrei invogliare i ragazzi a venire con noi in montagna, facciamo tante belle passeggiate. Noi siamo qui come gruppo Accordeon Classique, Accordeon Kids che sarebbe il gruppo dei bambini fisarmonicisti che sono tutti i miei allievi della scuola Accordeon con sede in Borgo Franco di Vrea. Innanzitutto ci tengo a precisare che il gruppo di fisarmoniche Accordeon Classique è quindi composto solo tutte da fisarmoniche. Il nostro repertorio, noi facciamo concerti un po' dappertutto, in Canavese, Valle d'Aossa, dove capita, abbiamo fatto anche concorsi internazionali e altre manifestazioni in cui ci siamo piazzati molto bene. I gruppi sono tutti composti appunto da miei allievi e il repertorio spazia dalla musica classica, musica da film, brani moderni, tutti arrangiati per gruppi di fisarmoniche. Grazie a tutti.